Il bello di Trenord oggi ci porta a visitare una delle stazioni di Milano allestita per questa seconda fase dell'emergenza covid. Siamo a Porta Genova e andiamo a vedere una delle 55 biglietterie in cui vendiamo i titoli di viaggio ai nostri clienti. In questo momento sta andando abbastanza bene nel senso che è stata pulita la stazione normalmente ci sono persone che risiedono qua tutto il giorno. Adesso con la sicurezza e l'intervento che hanno fatto a metà marzo la stazione è bella pulita e si lavora bene. L'affluenza non è ancora tanta però di giorno in giorno stanno aumentando anche le persone. L'acquistone DAB sta andando molto bene però stiamo anche incentivando come vedete a fare i biglietti online per evitare le code. Abbiamo segnato con le linee gialle per il distanziamento. Le stazioni sono presidiate sono sanificate con una frequenza molto alta e nelle 27 stazioni principali quelle con un maggior traffico di clienti abbiamo provveduto ad installare queste colonnine con il gel per disinfettarsi le mani in modo tale che sia possibile disinfettarsene prima di fare l'acquisto in biglietteria. Dove non fosse presente la colonnina è comunque presente il gel sanificante sui desk di biglietteria per poter procedere alla stessa operazione. Privilegiamo l'acquisto online dei titoli di viaggio anche se le nostre biglietterie e i nostri mining point rimangono aperti per dare assistenza ai clienti su tutto quello che riguarda il servizio e il viaggio in treno.